buongiorno oggi voglio di quella parola voglio fare delle osservazioni ai nuovi siti ai nuovi ai siti e di quelli che conosco si è ben chiaro che poi ci sono tanti se dovrei fare l'osservazione a tutti e siamo a posta quello che io conosco è che cerco di donare un sorriso in base alla solitudine come me come tanti e tic toc diciamo anche instagram poi c'è facebook e cavolate varie la mia osservazione è questa vi fate guerre tra di voi per acquisire più clienti che potete ma i clienti cioè noi che partecipiamo c'è un dato lo fa piacere partecipare non per farti conoscere fatti bello cose varie più per un passatempo la nuova tecnologia però che tu tic toc o lì che o instagram o chiunque sia che vi fate guerra tra di voi che se io dico instagram per modo di dire o lì che o tic toc voi non lo pubblicate non lo pubblicate altrimenti va a finire il suo altro sito perché siamo una spesa di gelosia perché volete ognuno la vostra parte ma noi è che siamo gente comune che ci piace passare un po di tempo avere nuovo contatto con con questa nuova tecnologia chi la odio si è ben chiama però nel senso istante in base alla solitudine cerchi di avere un po di compagnia però voi rovinate tutto rovinate perché siete non gelosi ma interessi economico io sto registrando adesso qui che andrà su youtube da youtube ve lo passerò direttamente come fosse un come si dice la parola vabbè è una diretta una diretta che mi ascolterete perché sia tic toc che instagram che lì che non mettono il volume perché non mettono il volume perché dico le cose come sono è pazzesco quindi la vostra e vostre regole del cavolo a me me la fate a mano se questo vuol dire me la fate a mano mi fate schifo adesso facendo perdere tic toc link cioè le direzioni di queste società del cavolo mi rivolgo a colore che sono iscritti il 90 per cento io li giudico delle minorenne e io cerco di comportarmi da nonno giusto nei confronti delle minorenne che poi ci sono degli adulti che fanno delle scene cioè per loro bravate saranno giuste o non saranno giuste però non si rendono conto che per me la mia opinione è un sito per ragazzi a parte che ho sempre detto che i ragazzi ne sanno più degli adulti comunque lasciamo perdere questo particolare io ce l'ho con le minorenne o minorenne quando io faccio una diretta tic toc diche non dico tanto perché non li capisco perché parlo straniero stranieri io parlo italiano che non li capisco ma mi rivolgo più a tic toc che capiscono la lingua italiana che il 90 per cento italiana vedo che quando io faccio una diretta cerco di donare un sorriso cerco di tenerli su di compagnia e cose varie facendo le mie bravate allora nel senso istante vengo soggiocato e presso in giro questo a me non mi va giù poi vedo dei scritti che diceva prende in giro un uomo a certe età cose varie e ognuno dice la sua opinione chi giusta chi sbagliato però non mi non accetto dico la parola non accetto le prese per i fondelli non voglio essere lungo oggi non me la sento perché mi sono rotta le scatole io vi ho detto addio a tic toc a lig e tanti altri siti che viviamo in una nuova generazione di corrotti 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 il 90 per cento di sesso parliamoci chiaro se mi dovete interrompere la trasmissione trombetemi pure non mi frega un cacchio io quello che ho da dire lo dico anche degli adulti che fanno le scene di sesso ed è economico cioè interessi di soldi quindi parole povere io vi mando a quel paese perché mi sento un uomo un uomo giusto a meno dal mio punto di vista poi chi la vedrà cotta chi la vedrà cotta non mi frega niente io adesso sto registrando qui su youtube da youtube farò la replica e ve la spedirò anche se non sentirete cioè anche come ho detto all'inizio non pubblicare il volume il volume qui da qui non si scappa ok poi ciao nonno ciao chi cavolo sei sei un gay sei quello che sei le ragazzini che ti sforzano e cosa va è successo tempo fa pochi giorni fa delle donnazze e cose varie e io qui tik tok link e cose varie anche da lì ho avuto delle proposte o scene allora io dico a parte che a me funziona ancora tanto per cominciare però nel senso istante non accetto proposte o scene si da tik tok da lì che cose varie tutto qui adesso otto minuti penso che sono sufficiente per passerò dalla registrazione a youtube la youtube passo su tablet e ve lo spedirò direttamente quindi io qui non vedo nessun iscritto chi mi saluta chi non mi saluta che non mi frega un cazzo ok ragazzi di oggi che dicono le parolacce le dico anche io sono moderno quindi io vi dico andate a prendere sia le direzioni di tik tok link e cose varie a prendere nel culo bello buono e sia a coloro che partecipano ai concorrenti chiamiamolo come cavolo vogliamo di essere più educati per non dirvi la parola come glielo ha detto le direzioni di tik tok e cose varie comportatevi come dio vi comanda io quello che chiedo è divertirvi e sorridere la vita è una sorridiamo ok questo è il non potito o è giusto o è sbagliato a voi il giudizio che poi non mi frega un cacchio io sono quelle che sono ok arrivederci e buon divertimento grazie grazie grazie